Grazie a tutti. 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 La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegramoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore Dio, Egli ci illumina. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza di Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito Santo nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva, quello che vedi scrivelo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinda al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, cadda ai suoi piedi come morto, ma Egli, posando su di me la sua destra, disse, Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiave della morte e dei viveri. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presente e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Perché hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo, e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettela nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, E' la Domenica della Divina Misericordia, chiamata Domenica in Albis perché nei primi secoli cristiani che aderivano a credere in Cristo e si preparavano per ricevere il battesimo, nella notte di Pasqua ricevendo il battesimo ricevevano anche un vestito bianco, un abito bianco, che lo portavano tutta la settimana fino alla seconda Domenica e dopo lo depunevano. Quel bianco mostrava la loro nuova vita, quell'abito bianco, cioè nel battesimo ricevuto in Gesù Cristo morto e risorto, loro diventavano figli di Dio in Cristo e con quel abito bianco significava per loro una vita nuova, nella grazia di Dio, vissuta senza peccato, se possiamo dire così. E quindi è rimasta per secoli come un simbolo, noi sappiamo, no? Preparazione, i catecumini che aderivano per ricevere questa grazia dal Signore, cioè il battesimo, diventando figli di Dio. Da 30 anni celebriamo nella seconda Domenica di Pasqua la Divina Misericordia, una grande grazia che l'abbiamo ricevuta da Gesù Cristo nella sua insistenza, nel suo amore grande per l'umanità, ha deciso e ha voluto che sia istituita anche una festa. Mai non è successo una cosa del genere che Gesù insistesse a Sor Faustina Kowalska di parlare con i suoi superiori per istituire questa grande festa alla Divina Misericordia, che la celebriamo proprio oggi. Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato questa grande festa nel 1992. Già oggi sono 30 anni da quando celebriamo questa grande festa. E' una, veramente una grazia abbondante. Il Signore ha chiesto da questa Sor Faustina di dipingere un quadro, che non deve essere un quadro, deve essere un'icona, che la metta in tutte le case e anche nelle chiese per essere venerata. Però non venerata solo come una immagine bella, ma come una presenza reale di Cristo in mezzo a noi. e chiede da questa Sora che tutti quanti venera questa icona e si prepara, si confessa in questo giorno, seconda domenica di Pasqua, possono ricevere, attraverso la confessione sincera, la partecipazione alla Santa Mesa e la comunione possono ricevere l'indulgenza plenaria. Una grande grazia. Cosa significa indulgenza plenaria? Che i nostri peccati sono perdonati, ma non solo i peccati, ma anche le pene, che noi li meritiamo attraverso i peccati che li abbiamo commessi. Per dire, se non li purifichiamo in questa vita, li purificheremo in paradiso, scusate, nel purgatorio. E quindi Dio ci ha dato la grazia di purificarci, proprio in questa vita, di tutte le nostre pene. Oggi abbiamo sentito un Vangelo meraviglioso. Vedete che noi celebriamo oggi, si conclude l'ottava pasquale. Cosa vuol dire questo? Otto giorni di festa. La risurrezione di Cristo non la possiamo celebrare solo in un solo giorno. La Chiesa ci ha regalato otto giorni, come anche al Natale. Otto giorni per festeggiare la nascita di Cristo. Così anche la Pasqua. Otto giorni per celebrare la risurrezione di Cristo. Ma non significa che adesso finisce. Questa nostra festa deve essere per tutta la vita e al di là in paradiso. Non possiamo dire che festeggiamo per un tempo la risurrezione e dopo prendiamo la vita mondana. Dobbiamo rimanere sempre con Cristo. Ma questo regalo per dire un giorno prolungato, come otto giorni. Cioè la grazia di Dio che per noi è infinita. E oggi abbiamo sentito nel Vangelo questo gruppo di discepoli che hanno vissuto con Gesù per tre anni. Hanno visto tanti miracoli, tanti segni, tante cose belle da Cristo. Adesso, alla fine, quando Gesù è stato crocifisso, loro vivevano nella paura. Ma perché nella paura? Per la paura dei giudei. Perché avevano paura che forse anche loro potevano avere una fine brutta come l'ha avuto Gesù sulla croce. Perché erano i discepoli di Cristo. E i giudei sapevano che anche loro hanno seguito Cristo e quindi volevano ucciderli. Erano chiusi per la paura. Ma non solo per la paura della morte. Anche forse per la vergogna di incontrarsi con gli altri. Perché dice il vostro maestro adesso ha finito male. E voi come finirete? E quindi erano bloccati in quella stanza. Che non sapevano nessuno. Solo Tommaso era fuori. L'Apostolo Tommaso. Non sappiamo il motivo perché Tommaso era fuori quando Gesù è venuto nel giorno di Pasqua. La mattina o presto Maria Maddalena è andata al sepolcro e ha ricevuto da quei due angeli questa notizia. Che Cristo è risorto. Ha portato la notizia ai discepoli ma loro ancora non potevano credere. Perché la gioia era troppo grande a credere così subito. E quindi rimanevano spaventati, impauriti e chiusi. E Tommaso tornando ha sentito anche lui questa notizia. Che Cristo è risorto. Però, come abbiamo sentito, lui non voleva credere perché voleva toccare con le sue mani, le mani di Cristo e il suo costato. La meraviglia che Gesù si presenta per la seconda volta in mezzo ai discepoli. Vedete? La prima volta Gesù si è presentato con il dono della pace. La pace sia con voi. Il dono della pace che Gesù la trasmette ai discepoli non è una pace come la capiamo noi, per dire come in questo tempo si parla di guerra. Non è quella pace, cioè la mancanza della guerra, quindi siamo in pace. È un dono divino, è un qualcosa di particolare. Cioè la pienezza dello Spirito Santo che abita nel nostro cuore. Una pace che dalla lingua ebraica o aramaica si traduce con shalom. Shalom, cioè pieno di Spirito Santo che niente non ti può spaventare. Gesù sapeva che loro avevano bisogno di questa pace, di questa sicurezza. Vedete? Loro si sentivano anche in colpa perché hanno abbandonato Cristo sulla croce, prima di essere crucifisso, sono tutti scappati. E quindi Gesù è venuto non per improverare per quello che loro hanno fatto, ma per dargli di nuovo questa sicurezza. La pace sia con voi. Ma nel Vangelo di oggi escono fuori diverse grazie, non solo il dono della pace. Vedete che quando Gesù si presenta, lui viene con la grazia abbondante. Prima dice la pace sia con voi, lo ripete per due volte. E dopo otto giorni quando viene Tommaso e anche lui in mezzo, la terza volta dice la stessa cosa, la pace sia con voi. E dopo soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo, di quello che loro proprio avevano bisogno, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. E dopo gli dà anche una missione, la missione di uscire fuori da quella stanza e di andare nel mondo per predicare, per testimoniare, per parlare. Di cosa? Parlare di Cristo. Colui che era stato crucifisso adesso è risorto. E come abbiamo sentito alla fine di questo Vangelo, perché sono proprio le ultime parole di San Giovanni che per noi sono molto importanti e li voglio ripetere per capire il senso. Uscite fuori e testimoniate quello che voi avete sperimentato, che quel Cristo che voi avete crocifisso adesso è risorto. E cosa dice Giovanni? Molto meraviglioso parla lui, dice Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio e nel suo nome voi potete avere la vita. Quello che credo che interessa a tutti, avere la vita. Ma non questa vita faticosa, quella vita eterna. Avere la vita in Gesù Cristo. E San Pietro lo ripeta in un'altra parte dicendo che non c'è salvezza fuori di questo nome, di nome di Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo sentito forse da diverse persone, diverse testimonianze in diversi posti nel mondo, guarigioni di tutti i modi. E forse ancora non siamo convinti, forse ancora dubitiamo nella nostra fede, nella presenza di Dio, nella presenza del Paradiso e così via. Giovanni dice, queste cose che voi l'avete sentito della vita di Cristo sono state scritte perché voi crediate. Ma cari fratelli e sorelle, dobbiamo riflettere un po'. Noi crediamo veramente nella risurrezione di Cristo? O vogliamo ancora altri segni? Altri miracoli? Perché c'è tanta gente che scappa di qua e di là per vedere diverse miracoli. Ma questi che li abbiamo nel Vangelo già ci basta. Perché Giovanni molto chiaro dice, questi sono stati scritti perché voi crediate. perché noi possiamo credere. E chi crede ha la vita nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. E dicevo che questo Vangelo è pieno di segni e di miracoli e di grazie. perché più avanti i discepoli, vedendo Gesù per la seconda, la terza volta, gioivano perché non li veneva a credere che veramente Cristo è tornato in mezzo a loro. E una cosa che forse noi abbiamo pensato su Tommaso, un po' sempre l'abbiamo preso come colui che non crede. Invece non è così. Tommaso ha creduto più di tutti gli altri. Lui ha detto, io se non vedo le sue mani, il suo costato, non credo. Perché ha detto queste parole? Perché lui voleva essere non sicuro. Voleva vedere Cristo, colui che era crucifisso sulla croce, che è morto sulla croce. non poteva credere che poteva vederlo di nuovo. Dice, vuole essere sicuro che questo non è un fantasma, che non è un angelo, che è proprio lui, perché lo amava. Se torniamo indietro nel Vangelo, al capitolo qui, 11, di Giovanni, quando Gesù ha detto, dobbiamo andare a Gerusalemme e lì sarò ucciso, crocifisso. Loro non tanto hanno capito. Tommaso è stato per primo che ha detto, andiamo anche noi a morire con lui. Amava tanto Cristo, Tommaso. E per questo lui voleva essere sicuro che Cristo è veramente risorto, che non io ho una fantasma o un qualcosa detto da chissà chi. E quindi, quando l'ha visto, cosa ha detto? Io sono sicuro che Tommaso non ha messo la mano nel suo costato, quando ha visto Cristo. Ci ha lasciato la professione di fede, che i sacerdoti la dicono sempre durante la consacrazione, quando alza l'ostia, mio Signore è mio Dio. Vedete, cari fratelli e sorelle, mio Signore è mio Dio. Tutto, sei tutto per me. Questo lo dobbiamo prendere anche noi. Dire sempre, quando vediamo l'ostia, mio Signore è mio Dio. Non voglio vedere altri miracoli perché questo mi basta. Tu sei rimasto in mezzo a noi, nell'Eucaristia. Cosa voglio vedere ancora? Lo vedo tutti i giorni. Gesù, mio Signore è mio Dio. Se io veramente credo con tutto il cuore in Gesù, Eucaristico, che è rimasto con noi, dice Giovanni, voi avete questo segno, questo miracolo della presenza di Cristo, perché credendo in Lui, potete avere la vita eterna. Vedete, torno di nuovo la Domenica della Divina Misericordia. Questa Domenica il Signore ce l'ha lasciato perché ha visto la nostra miseria. Cosa significa misericordia? Forse avete sentito diverse volte. Lo voglio ripetere perché è molto bello dirlo. Misericordia di Dio verso di noi. Questa parola contiene tre parole. Misericordare. Se la rileggiamo viceversa, dare il cuore ai miseri. Misericordia. Questo ha fatto Gesù per noi. Ha dato il suo cuore ai miseri. I miseri siamo noi tutti. Vedete quanto grande amore Dio ha per noi? Ha dato il suo cuore ai miseri. Questo lo dobbiamo fare anche noi, imparando da Lui. Dare il cuore ai miseri. Dare l'amore. Dare sicurezza. Speranza. Noi che crediamo in Cristo possiamo fare questo perché Gesù ci prepara per essere i Suoi discepoli, i Suoi apostoli. Adesso abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. Come i discepoli. Usciamo fuori. Usciamo fuori a fare cosa? Prendere la vita di prima? No. Testimoniare. Andate e parlate di me, della mia risurrezione. Come? Non tutti ci capiscono. Anche dare il cuore a quelli che non capiscono e ti prende in giro. Però lo facciamo per amore di Dio. E la nostra insistenza, con pazienza, con sicurezza e con fede, veramente può portare tanti frutti. Ma non lo facciamo noi. Lo fa sempre Dio attraverso noi. Questo celebriamo oggi. La misericordia di Dio che il Signore la offre a tutti noi. in grazie, in regalo. Ecco, cari fratelli e sorelle. E vorrei concludere questa breve omelia, credo che non è tanto lunga, con queste parole del salmista. Rendete grazie al Signore per chi è buono. Il suo amore è per sempre. Rendiamo noi grazie al Signore anche quando siamo offesi per la fede, non per altri motivi. Rendiamo grazie perché l'altro forse non ha capito quello che hai capito tu, quanto è grande l'amore di Dio. O rendiamo grazie solo quando ci va bene, tutto bene. Allora diciamo grazie. E quando arriva una prova, cosa facciamo? Ci chiudiamo nella nostra stanza. No, dobbiamo uscire per dare testimonianza. Testimonianza nella nostra semplicità, ma concreta, una vita concreta, di fede in Gesù Cristo. Morto, però risorto. E se Lui è risorto, siamo risorti anche noi, insieme a Lui, per la Sua potenza. Questo celebriamo durante la Pasqua, ma non solo durante la Pasqua, ma tutto l'anno, perché diventando cristiani siamo figli di Dio, siamo quelli che dobbiamo parlare di Dio, della Sua misericordia. Sielo dato Gesù Cristo. Cristo è risorto. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Adesso ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, è la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio e ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che vorrà. Amen. Cari fratelli e sorelle, afferati dalla Divina Misericordia, esercitiamo il nostro sacerdozio battesimale, intercedendo per la Chiesa e per il mondo intero. Diciamo insieme, Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Amo. Per la Chiesa, perché fortificata dallo Spirito Santo, annunci il Vangelo della salvezza, per promuovere tra gli uomini i rapporti di fraterna solidarietà, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i governanti, perché illuminati dalla parola, si impegnino a promuovere le cause della povertà, garantendo il rispetto dei diritti degli ammalati e dei diversamente abili. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i ministri della riconciliazione, perché siano resi dallo Spirito Santo immagine viva di Cristo medico e pastore, capaci di accogliere e curare con tenerezza i penitenti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché nutrita dal risorto con la parola e il pane eucaristico, sia locanda della speranza, oassi di misericordia e casa ospitale per tutti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. E perché siamo nella casa della nostra madre, questa basilica dedicata a Maria, chiediamo dal Signore che attraverso la nostra mamma del cielo ci aiuti a credere veramente in Cristo, suo figlio, a testimoniarlo e ad amarlo. Chiediamo da lei questa grazia, che lei, come è stata in mezzo ai discepoli e gli ha dato il coraggio di andare avanti, di testimoniare, e hanno pregato insieme anche noi, siamo i Suoi figli, perché lei è la nostra madre, la madre di tutti. Chiediamo attraverso Maria la grazia di testimoniare Cristo nella nostra fede, nella nostra vita quotidiana, testimoniarlo con amore, amore verso Dio e verso il prossimo. Chiediamo questa grazia per Cristo, nostro Signore. Amo. 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 Pregati, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Amo. Amo. Accogli, oh Signore, i donne del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E' Lui il vero Agnelo che ha tolto i peccati del mondo, e' Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere delle Angeli e dei Santi cantano senza fine la Tua gloria. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, Champaggio, e di Blockchain. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e cui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipe della sua vita immortale. Rende la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Domenico, Teresina, Gaetano, Francesco, Rosa e Antonio. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, Ave misericordia, donaci da aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obediente alla parola del Salvatore, formate al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro, che sei nel Cielo, che sei santificato per noi, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, con il cielo così terra. Dacci oggi il nostro pane e gloria per noi, che venite a noi i nostri reni, come anche noi viviamo i nostri ruotori. Liberaci o Signore da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si convia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Obediente alla parola del Salvatore, signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore, risorto sia con tutti voi. Scandiamoci il segno della pace. Scandiamoci il segno della pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beatili invitati alla cena dell'Agnello. Scandiamoci il segno della pace. Scandiamoci il segno della pace. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gesù. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. voi. tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. . . . . . . . . .